Ok, grazie. Adesso è un altro pezzo che ha scritto Ettore, al di là dell'Italia l'ha scritto John Lennon, sostiene. Sì, avevo mangiato pesante, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. Che brutta vita. E parla di disagio anche questo, vero? Sì, sì. Ma non è anche questo di disagio, però semile. Di morte. Però semile, infatti, di morte parla. Si chiama, visto che parla di morte, It's All Right. Sì, avevo mangiato pesante, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. Che brutta vita, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. Che brutta vita, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. Che brutta vita, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. Che brutta vita, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. Che brutta vita, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. Che brutta vita, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. Che brutta vita, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. Che brutta vita, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. Che brutta vita, mi sognate di notte e alla mattina è uscito qui. It's alive, it's alive, you're right with the sight It's alive, it's alive, you're right with me Was it alive? Zeitgeist me a child Was it alive? станов Zeitgeist me a child Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti